Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph e quest'oggi giocheremo a Who's Your Daddy Probabilmente questo è il gioco più matto della storia dei videogiochi Avremo infatti un bambino, di nome Steph in questo caso Che tenterà di uccidersi, non si sa per quale motivo il bambino si vuole suicidare Perché sei brutta? Ma perché devi dire queste cose? Sarò un padre amorevole, vedrai che riuscirò a non farti ammazzare Impossibile Steph? Eh? È ora di pranzo Oh che bello Siccome so che in questo periodo sei un po' depresso e sei un po' triste Ho deciso di cucinarti il tuo pranzo preferito Che ne dici di venire in cucina con me? Andiamo, andiamo Vieni Uh, corro Cosa vorresti oggi per pranzo? Un bel pollo? No, voglio prima di tutto una sedia per sedermi a tavola Perché non ci arrivo, sono troppo piccolino Dammi la mano Ecco qua, ecco qua Tieni Ma così, non ce la faccio Allora, prendiamo la padella Vieni qua Che ovviamente serve Per cu-ci Hai rotto i bicchieri Ecco, cooking for baby Guarda Papà, perché rompe i bicchieri? L'ho messa al contrario Secondo te cuoce uguale Prendiamo il pollo Ecco qua Ma non l'hai messa neanche nella padella Ecco qua Adesso è nella padella Ok, si sta cucinando Come si accende il forno? Guarda Oh no, aspetta Ho acceso Ecco, aspetta Ok Ci arrivo Ho acceso questa Guarda Stai diventando nero Non puoi, ti ho fatto il pranzo Ma è crudo Ti ho fatto il pranzo Allora, aspetta Guarda, facciamo questa cosa Ok Mettiamo il salmone nel microonde Chiudo Posso venire anche io? Cucina Guarda, sta cucinando Ecco qua È pronto? Tieni il pollo Ecco, mangiatela Ma è crudo Adesso No, è buono Non capisci il mio tipo di cucina È crudo Se lo mangio Muoio Sei un padre pessimo Metto a te Guarda Aia Stai scocciando No È diventato di carbone Sei il peggior padre Della storia del mondo Ma è terribile Guarda Ma io volevo solo cucinare per te In realtà mi hai cucinato a me Complimenti Brava Così si fa Non faremo mai un figlio Steph Aha Visto che il pranzo non ti è piaciuto Mi è venuta un'altra idea Ok Possiamo giocare E giocheremo a nascondino È il gioco preferito dai bambini Andiamo Quindi se non diventi felice così non lo so Allora, dobbiamo dire le regole Ok Io avrai quanto? Diciamo un minutino per nasconderti Va bene, mi sembra giusto Se non ti trovo Vuol dire che ti potrai ammazzare Ed esaurire i tuoi desideri Ma mi sei non permesso di uccidermi È il tuo desiderio Alla fine i bambini vanno anche accontentati Ma un padre non dovrebbe permetterlo Io mi giro Guarda sto qua nel muro E vai a nasconderti Ok, però non badare Non puoi guardare il mio schermo Promesso? Lo sto già facendo Smettila Uffa Quasi finito il tempo Ok 10 secondi Ci sono quasi L'hai fatta? Arrivo a cercarti Ok Qui dentro No No Acqua Acqua Qui dietro? Dietro i divani Dietro i divani No 10 9 8 No 7 Io prendo la frutta 6 Così Così riesco 5 Dove ti sei messo? 4 3 2 1 Dove sei? Dove sei frutta? Mi stai trollando Sei dietro qualcosa? Dietro ai divani Ciao mamma Tieni la frutta Così starei bene per sempre Non ho mangiato nulla Vieni a giocare con la palla Dai Ok Ragazzi Sì sì Dove stai andando? No A fare la pipì No No Smettila Non ti puoi buttare nel water Aspetta Non posso neanche più fare la pipì In questa casa? No Non con le tendenze suicide Uffa Ti afforchetto guarda Sei il bambino più fastidioso del No Smettila Sto giocando Ti ho detto che dovevamo giocare Perché ti comporti così? Sto giocando con le lego Vedi che ho questo blocco Ti chiudo in cucina Sei un papà terribile Tu sei un figlio terribile Sei un figlio terribile Guarda Ti calpesto Ti calpesto Lasciami giocare Ti calpesto Perché mi vuoi fare questo e vuoi lasciarmi da solo? No Sì No Non voglio rimanere da solo Un padre è single Steph Ah Allora ti propongo di andare a giocare in salotto Ti ho messo tantissimi giochi Guardateli ho già tutti disposti là sul tappeto Se non ti diverti così io non so più cosa inventarmi Andiamo a giocare Vi gioco a me Cosa posso fare? Tutto? Sì puoi Allora Tutto nel limite Puoi giocare con la palla Ok Poi ho messo questa pianola Questo non mi ricordo il nome di sto coso Dove puoi suonare Puoi comporre musica Magari decidi che nella vita vuoi essere un musicista Un artista Ah sì Piuttosto che finire la tua vita in modo così breve Capito? Ti lascia la chiave qua Alla tv 100 modi per morire? No Ok No I canali sono bloccati Puoi guardare solo Peppa Pig e Masha e Orso Ma no ma sono noiosi No sono bellissimi guarda Allora mi metto Fammi sentire che canzoncina vuoi suonare Ok ooh The status handsome as his father Quindi fighissimo come il padre Vedi Hai preso tutto da me fr Lobo Sono bravo Ho anche un'altra sorpresa per te dato che penso che il musicista non sarà una delle tue carriere Perché papà? Perché non sei stato bravissimo Ok Allora No, 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 ti ho preso un altro giocattolo Ok, sei pronto? Questa che aveva dorata? No, no, è una sorpresa che ho conservato appositamente per te L'ho trovato nel comodino della mamma E ha detto che è un giocattolo fighissimo per i bimbi di oggi Oh, che bello Lo vuoi vedere? Sì, sì, sì Tieni qui dentro Arrivo Sì, la mamma mi ha detto così Io spero che sia adatto per un bambino come te Ma è un serpente? Esatto Bello, guarda come si muove Un serpente rosa Che bel regalo papà, grazie Sei felice almeno adesso? Sì, tantissimo Steph Dopo che abbiamo passato questa giornata così carina assieme È il momento del bagnetto Ti sei stancato tanto Hai sudato tanto Quindi dobbiamo farci il bagnetto Ma con le bolle sapone? Certo Oh, che bello Andiamo? Andiamo a preparare il bagnetto Sei più felice adesso? Non hai più tendenze suicide? Forse Cosa vuol dire forse? Ci stiamo divertendo così tanto Eh, insomma Cammina La mamma è più divertente Muoviti Cosa hai detto? Passa da qua Cosa hai detto? Che con la mamma mi trovo meglio Come puoi dirmi una cosa del genere? Dopo che ho passato tutta la giornata con te Sei brutto e le tue ginocchia entrano dentro il tuo corpo È strano Non c'è acqua La sto mettendo Se hai un attimo di pazienza Ma è fredda Papà, è fredda l'acqua La smetti? Stiamo cercando di fare il bagnetto Ma non ci sono bolle di sapone È fredda La mamma lo sa fare meglio Vedi? Non sei neanche in grado di farmi fare il bagno Solo la mamma ci riesce Non ti sopporto più Vattene Non ti voglio come padre E io voglio soltanto morire Mi mangio questo sapone Oh, che buono Allora Visto che noi siamo riusciti a riempire la vasca Mi è venuta un'altra idea Ok C'è un'altra vasca più piccola per bambini Quale? Questa Devi entrare dentro e fare un bagno fantastico Ecco cosa serve Lo vedo sempre Esatto Ma voi di solito però non c'entrate dentro No, tu non lo vedi quando c'entriamo E poi è per bambini Vedi che è piccola È fatta a fossa per i bambini E perché è che la prima volta che la provo La mamma non me lo fa mai fare il bagno qua? Perché la mamma è morta, ok? Quindi entra lì dentro E facciamo un bellissimo bagnetto Vai Sono tristissimo Vai Che succede? Inizia il bagnetto È tutto buio Aiuto Questa è la fine che fanno i bambini Sto morendo Padre Che trattano mali genitori Sono io Questa è la fine Esatto E sbucchi anche dal water Neanche così mi libero di te, guarda Dovrai seppellirmi Ok, direi che abbiamo cazzeggiato a sufficienza per questo video Questo gioco è geniale ragazzi Io non so chi può pensare L'ha voluto fare lui Quindi date la colpa a lui Io non so chi può pensare L'idea di fare un gioco dove uno è nato cerca di ammazzarsi Cioè se non è un genio Questa persona non so chi lo è nel mondo Comunque ragazzi Se volete vedere un altro episodio Dove sarà lei la bambina E io il padre Magari aspettando Con tanto di parrucca? Con tanto di parrucca Magari aspettando qualche patch Per avere più possibilità per morire Giusto per essere allegri Magari si aprono le nuove stanze Che ce ne sono diverse Esatto Fate già sapere nei commenti E lasciateci un bel po' di like Beh ragazzi il video finisce così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 Ciao